ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale eccoci con un'altra puntata di horizon forbidden west burning shore siamo con aloi dopo aver affrontato zet verso lo sconfitto e aver scoperto i piani di londra abbiamo acquisito una nuova arma che è questo qua è quella specie di guanto che dovrebbe marcare nemici e poi lanciargli un diciamo così dei proiettili che lo beccano sicuramente lo proveremo e adesso stiamo uscendo fuori proprio per andare prima a provare il guanto credo e poi per andare avanti con la storia principale ragazzi come di consueto vi invito a iscrivervi al canale e a lasciarmi un mi piace al video se vi va anche lasciare dei commenti sono gesti assolutamente gratuiti per voi per me importanti mi supportate nella crescita del del canale detto questo andiamo avanti e vediamo cosa ci attende praticamente abbiamo scoperto che londra gli vuole sfruttare per spero che se ne facciano una ragione e che tornino ultima spiaggia devo vedermi con seica prima e provare a parlarle e che si risolva tutto si vuole usare solamente ma non vuole salvarli come ha voluto fargli credere e quindi vediamo il mistero si infittisce l'ascensione allora scusate ragazzi abbiamo dei punti abilità oi la ne abbiamo un po' eh allora volevo sicuramente mettere anche questo tanto così abbiamo sbloccato e la e la potenziamo questo ce l'abbiamo non capisco perché mi manca ancora uno slot qua no possiamo perché possiamo potenziarla due volte ok l'altra era quella di cacciatrice mi sembra per quanto riguarda la era quello con l'arco scusate aspettate un attimo vorrei qual era non era neanche questo sì colpi silenziosi se ne ho già presi ma cos'altro abbiamo supersti queste per le pozioni curative vedo o comunque per le pozioni genere e non le ho prese tutte perché stavo guardando ma no rivediamo un attimo questa vediamo se ok dai direi che per adesso va bene quindi la nuova missione per suo diletto allora quando sarà la distanza giusta premi x durante un salto per eseguire un attacco agganciato contro una macchina a terra premi r1 quando indicato per energizzare il bersaglio e poter innescare un'esplosione risonante vediamo vediamo allora guarda se c'era qualcosa c'è qualcosa però abbiamo fatto solo crollare quello lì è la brillita ragazzi è come il pane guarda se c'era ancora qualcosa in giro allora noi dobbiamo andare dove è la missione perché non l'avevo fatto dobbiamo andare la punto qui ragazzi io possiamo provare a esplorare ancora sta parte qua vedere se c'è qualcosa così non credo ci sia altro però chi è chi ti ha abbandonato ho capito chi era che parlava quello sembra un dissepatore sembra un meccanismo di raffreddamento e allora probabilmente qua ci dovremmo ritornare ancora ma chi è che parla non ho capito chi è che parla ragazzi andiamo a vedere un attimo qui sopra se c'è qualcuno qualcosa se ne avrò bisogno lo troverò nella scorta volevo provare sto specie di arma che ho preso ma non so se andando lì giù è una pessima idea o è una buona idea è abbandonato ma vorrei sapere chi è che ti ha abbandonato e dove sei soprattutto sai oggi è abbandonato ma non sporo non sporo non sporo non sporo non non a ti incazzato non è male non è nemmeno non è male Sì uno l'abbiamo fatto fuori non è male questo come faccio a rifarle le munizioni? domanda ma le posso collegare? bene devo recuperare un po' di piccolo non è male devo dire starma comunque ragazzi non è male è ancora uno non è male abbiamo fatto i ditti e devo dire che non è male quest'arma ci piace è un po' lenta però se gli attacchi magari un po' a distanza può andare bene non è male direi non è male direi allora raccogliamo il raccoglibile poi è un po' a distanza è un po' a distanza è androppato un po' di roba androppato un po' di roba ho visto un po' ancora ho visto un po' ancora ma questo qua sopra come lo prendo? forse da qua sì ancora qualcosa? sì lì e lì eh c'è cos'è? la brillita la brillita che fai? la brillita che fai? non vedo altro vedo qualcosa qua di sotto e altra brillita adesso con tutta sta brillita qualcosa in più forse possiamo anche acquistare magari perché un po' ne abbiamo ok qua siamo lungo questa fenditura con delle altre bestie qua dietro con sempre loro perché non posso più ok non me lo prendeva grazie a tutti Perché a volte non me lo Ah ogni tanto mi perde il controllo non so perché con questa puntata ragazzi sto facendo un po di i macelli in giro allora andiamo a prendere questo probabilmente ci sarà dell'altra brillite da da prendere preso guanta roba però eh è il ma volatile è questa ok non tira neanche un filo d'aria qualcosa più avanti qua proprio quello che ci serve non vedo altro qua quindi tanto stiamo andando comunque nella direzione giusta ascuriamoci va tanto la radura chi c'è e non è su io ho l'impressione che qua dovremmo ritornarci però posso anche sbagliarmi non vedo nulla qua non vedo nulla vorrei capire se ho sta lava mi faccio male o non mi fa niente non so non mi fa niente sembra che sto lì secondo me meglio non andarci va bene io salverei ancora una volta e poi adesso mi da anche la allora io volevo tornare al villaggio vedere se possiamo quanti ne ho nel caso di acquistarne qualcuno magari allora volevo usate armi questa non la posso modificare quindi devo andare per forza il banco di lavoro allora dov'è il banco di lavoro è qua qui c'è l'armaiolo che ha un punto esclamativo quindi può darsi che abbia altre cose da che non la possa non riesco a capire come accidenti salire qua ogni volta andiamo un po' vedere le novità vedete le novità no non ne ho 9 di brillite e costano 3 tanto vediamo prima scusate ragazzi se possiamo fare qualche potenziamento si, sembra di si ok aumentiamo ancora ok qua mi serve il cuore ahia, l'aspidente proprio il peggiore quello piuttosto ragazzi serve vedremo se capiterà l'occasione vediamo di di provare ad abbatterlo qua ma qua non credo che possiamo si no scusate sbagliato qui no anche qua possiamo vediamo e anche qua mi serve il cuore di aspidente alfa quel cannone non posso migliorarlo lo vedo qua no non c'è ma miglioriamo tanto ce l'abbiamo ecco ecco a tuffo plano mi serve il tuffo plano ragazzi abbiamo un potenziamento sacche per quanto aspetto facciamolo almeno abbiamo ancora un po' di munizioni in più da portare trappole non le sto usando adesso vediamo ancora qua abbiamo sbloccato ancora qua devo sbloccare un'altra un'altra bobina ma non so è quella la sbloccherà l'ultimo livello probabilmente grazie a tutti facciamoci questo non ho molte altre alternative possibilità di comprare delle bobine una la potrei anche comprare la prendo e la metto sul sull'arco allora qua devo togliere qualcosa vediamo un attimo gustione io toglierei questo metterei quella che abbiamo appena preso che è questo me l'abbassa però però mi alza no 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 va bene mettiamo questo va bene questo ok direi che possiamo andare allora io mi sposterei però andiamo a piedi perché è è vero che tu io posso posso vendere qualcosa andassi utile per frammenti quindi è inutile che ci faccia questa roba qua infatti questo potrebbe servire potenziamento armi ok abbiamo venduto un po' di potenziamento armi armi abiti no questo questo lo teniamo tanto il leader verde lume pianta ok questo teniamo ragazzi è che 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 vediamo se ha dei ok se tanto per quello che costano ragazzi almeno ok allora ci spostiamo qua e andiamo e questo chi è? ci vogliamo provare mazzi questi sono grossi però sono tentato ragazzi troppo lontano non riesco a fine morto in amor non ho capito ma c'è la briliteri? no io devo andare proprio di là però quindi oggi giriamo alla larga provo su la strada non mi piace guarda che questi si incazzano tutti e due assieme poi provare che sono due forse uno da solo mazzi guarda che si incazzano guarda che si incazzano sono arrivati anche sono arrivati Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, vabbè, quelli lì. Spinamonte, ce n'è ancora uno, però... Allora... Allora... E c'erano tre colpi di quel cannone, proprio grazie, va... Ah, ce n'è ancora uno lì che gira, più lontano però... Ma vorrei evitarlo quest'altro qua, dai, tanto... Ci siamo, diciamo così, divertiti un po' con quello lì... Guarda solo se c'è qualcosa ancora qua... ... 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 Allora... ... ... ... Forza andare su di qua... ... 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 X Il nostro vecchio amico divoratuono... ... ... ... ... ... ... ... ... ... cercherò altri calderoni no no non ho fatto tutti i calderoni e l'altro da horizon allora qua ci abbiamo parlo dove lì non ci vado ok da qua salviamo perchè sta mappa me la da sempre tutta indietro ma porca mia ma che ne so e adesso devo ritornare giù di là e vabbè devo salire qua andiamo allora qua c'è un qualcosa da fare rovine quindi sarà un tipo un enigma qualcosa da si vabbè attiviamola vediamo un po' devo portarlo a un tintore si entra da qua probabilmente si vediamo cosa c'è da questo la solita chiave vediamo se riusciamo a risolverla signori se no qua ci va la batteria no no è qua la batteria è incastrata sotto la porta la chiave è lì un altro ornamento mi serve un modo per raggiungerlo no tagliato capito ma è fatta entrare qua dentro per scusa aspettavo di vostro un passaggio mi chiedo se posso arrivare in fondo al tunnel adesso ora la batteria quella è la ruota del carrer ho trovato dei dati secondo questi dati di sopra potrebbe esserci un codice non so se sia l'aria rarefatta dall'ultimo piano che mi sta facendo delirare ma siamo in guerra i robot che ci escono dal consegne intercettate protocolli di interrotte quanti fattori di identificazione servono costringetevi a venire a migliorare subito un codice capisce niente di sopra dove lo scusate qua non vedo di sopra probabilmente qua dobbiamo passare dall'altro lato ma non credo di qui c'è una porta qui c'è una porta vediamo magari e fu così che caddi e io voglio scendere aloi e vai giù madonna vabbè ma è possibile scendere oppure no non è possibile scendere vabbè sono qua dentro ma non riesco vabbè ragazzi io a volte faccio fatica a capirlo sto gioco ok volevo scendere in basso di là ma non mi da ecco ecco eh vabbè vabbè eh eh vabbè ragazzi ci vediamo quando sono di allora ragazzi mi sono arrampicato su tutta la parete eh devo capire ma io non capisco perché non riesco a scendere lì quello che è allora di qua non vedo altre non posso neanche arrampicarmi credo che l'unica entrata sia quella lì no questo ascensore non funziona vabbè non funziona c'eravamo già arrivati ma questo è dove ero prima mi manca qualcosa ragazzi vabbè magari poi la farò altrimenti per non girare tre ore a vuoto eh stiamo avanti con la missione signori scusate un falò qua andiamo lì oh guarda chi c'è salve però tre colpi è ancora uno che c'è ok beh questi sono abbastanza, beh oddio, nel primo Horizon questi qua mi facevano penare, però con le giuste armi diciamo così, vai più a colpirli nei punti vitali ragazzi, tutto lì sta allora chi è? diciamo un elicottero e non è attraversare sto e andare di là è una bestia che non so dov'è vabbè, andiamo non volevo prenderla vabbè eh qua sopra c'è uno interessante che comunque, però come ci arrivo ragazzi io non ci arrivo almeno da qua e mi attacca lui altrimenti, mamma mia cosa hai con l'affare lì? meglio usare il fuoco ah la bestia quello lì, si forse riesco sa non scala, non scala non scala diciamo non scala non scala ma l'ho lisciato giovane venga qua si faccia provare a uccidere perché poi questo l'avevamo affrontato nell'altro la terra la terra Grazie a tutti. 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 No, vabbè, questi qua... Palla finita. Cosa c'è ancora? Cosa c'è ancora? Cosa c'è ancora? Cosa c'è ancora? Ebbè... Cosa c'è ancora? Forse no. Ho fatto una strage, ragazzi. Ah, oddio, con queste armi che ho adesso almeno, con questi nemici poi probabilmente ce ne saranno ancora di peggiori più avanti. Ancora... Ancora... Non so quanto arriva il livello massimo con questo DLC. Cosa c'è ancora? 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 Ma... Cosa c'è ancora? Cosa c'è ancora? Cosa? Cosa c'è ancora? Cosa c'è ancora? E qua Come cadere Vedete Vabbè allora Vitalo però Fate le finte E fate le finte ragazzi Oh siamo arrivati Eh c'è ancora qualcosa Chi è? Non vedo altro qua Solo questo c'era Probabilmente si Allora Eh dobbiamo andare giù A scendere di nuovo Spero dei condizionatori Queste cose Sono delle armi Sì Le ho staccate Sembrano Infatti Vabbè Non posso farci nulla adesso Allora Devo andare di là ragazzi Giusto? Ci siamo Non so ragazzi Io penso che Ci potremmo No ragazzi Per questo episodio Mi fermo qua Mi raccomando Vi invito sempre a iscrivervi al canale A lasciare un mi piace al video Gesti assolutamente gratuiti da parte vostra Ma per me Veramente importanti Mi supportate Mi date una Una mano Nella crescita del canale Mi aiutate Farmi conoscere Per il resto Ragazzi Grazie a tutti Per aver visto questa puntata E ci vediamo Nella prossima Ciao Ciao